Adesso ci prepariamo per la serie, allora invitiamo sul palco i solisti dell'orchestra Vanessa Silvagni, Bomber, Bruno, insomma tutti su perché è l'ora delle polche, è l'ora delle polche, prepariamo, diciamo che fai un po', è però abbiamo un quarto d'ora, bene, abbiamo un quarto d'ora, adesso faremo delle polche in successione, allora, controllate i microfoni, mi raccomando, i microfoni, mettetevi a posto, le G, quello che dovete mettere, le G, Fiorenzo tieni il tuo sax perché suoniamo anche noi naturalmente, quindi venite un po' più qua, organizziamoci un po', ecco nel frattempo che ci si organizza ognuno nel suo microfono, mi raccomando, anche se con il sax non è che c'è poi tanta roba, tu stai con me, io te faccio, sì te sta qua, quando non suono io suoni te, e allora, volevo nel frattempo che ci si organizza ricordarvi un altro grandissimo importante appuntamento qui a Gatteo Mare che arriverà nel giorno del 3 di agosto, il 3 di agosto scende in Romagna la milanesiana, è un grande momento di cultura e di musica e di un festival, una manifestazione internazionale, io sono molto felice che il comune abbia, che Gatteo, che il sindaco, l'assessore e anche alla cultura, la Forlivesi, l'assessore al turismo, abbiano condiviso insieme a tutta la località questa possibilità, arriva un festival internazionale pieno di cultura, pieno di tradizione, pieno di storia, la ventunesima edizione, ha toccato Milano, Napoli, Roma e tante altre città, anche Gatteo Mare, Gatteo Mare grazie alla festa che si farà in onore di Secondo Casadei, ci sarà anche un premio a Riccarda, quindi un premio che la milanesiana farà a Secondo Casadei e a Riccarda, quindi il 3 di agosto, altro grande momento importante qui a Gatteo, un anno difficilissimo ma un anno importantissimo per la località perché è una località che spicca nell'aver dimostrato una possibilità importante, quella di tenere il legame con quello che era prima del Covid, questa è la cosa bella che sta succedendo anche stasera. Siamo pronti con le polche, partiamo con, come vuoi, partite voi con fuga, va bene, va bene, importante partire adesso, prepariamoci all'entusiasmo romagnolo, il ritmo della polca! No, non, 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 non Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.